Quagliù sabato sera, pasto libero, allora hai già fatto un pano che deve essere una bomba c'ha da far creare, ci deve far riprendere tutti i sacrifici fatti in settimana poi ci manteniamo poco, inforniamo ad una temperatura non troppo alta perché dopo deve subire un'altra cottura, ok lo cacciamo quando è uniformemente cotto lo andiamo a tagliare per la lunghezza, ma non mi è come cosa lo apriamo e cominciamo a condire, peperoni fritti si dice al forno, ma chi si sono fritti? Patate al forno sarsicce a pezzettini e fior di latte, mamma mia, sto mangiando con l'occhio andiamolo a infornare di nuovo per far sciogliere la mozzarella e far asciugare bene il panozzo che diventerà bello croccante, al morso avrà un crunch esagerato, ci siamo quasi mamma mia, ma che è questo panozzo ecco qua, andiamolo a chiudere voglio voler chiamare panozzo, voler chiamare salt in bocca chiamatelo come volete voi, io non voglio chiamare, voglio mangiare solamente andiamolo a tagliare, guardiamo chiamare 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 chiamare